Esiste anche un master biennale che abbiamo voluto suddividere in due annualità perché la prima che si occupa unicamente di valutazione è aperta a psicologi, medici, eccetera mentre il secondo anno che riguarda la psicoterapia dell'età evolutiva è aperto soltanto a persone che siano già psicoterapeute c'è una richiesta importante quindi sono persone già formate come terapeutiche però vogliono un approfondimento sull'infanzia stiamo aprendo anche un corso in collaborazione con il Formist che è la scuola di terapia bionomica e partirà un master a Cagliari proprio di psicoterapia dell'età evolutiva